Buongiorno Nadia, oggi voglio farti questa domanda, esistono solamente diamanti bianchi o esistono anche diamanti colorati? Allora, i diamanti, ci sono anche i diamanti colorati, cioè diamanti, soprattutto diamanti colorati naturali, lo specifico bene, naturali. Allora abbiamo il colore del diamante che abbiamo capito che ci sono varie sfumature sul diamante, ma questa è una cosa, però esistono anche le pietre naturali colorate. In questo caso per primo vi voglio mostrare il nero, eccolo qui, vi mostro il brillante nero, vedete? È un brillante che è meno pregiato di quello bianco, in questo caso l'abbiamo completato un po' con una coroncina di diamanti tutti quanti intorno, proprio per arricchire proprio l'anello, non solo, addirittura in questo caso abbiamo messo le puntine, sulle puntine che chiudono la pietra abbiamo messo anche un brillantino piccolo, proprio per arricchirlo ancora di più. È uno stile un po' particolare, è uno stile un po' regina. Ecco, questo è il diamante nero. Qui abbiamo invece, vi volevo mostrare, tre anelli a rosellina, sono fatti con i castoni in rialzo, a filo. In questo caso abbiamo il brillantino tutto bianco, però questi due, che sono sempre due roselline, sempre fatti come quello fatto a filo, due roselline, abbiamo un diamante a taglio brillante centrale bianco, il contorno, in questo caso abbiamo un contorno giallo di brillanti naturali e in questo caso invece sempre di brillanti naturali, il verde centrale sempre il bianco, però da completare, da arricchire il tutto con brillanti naturali colorati. Esistono anche altri colori, c'è ad esempio anche rosa che è molto bello, però questa sarà una cosa che parleremo in seguito. Perfetto. Grazie di tutto, grazie per essere sempre con me, sono felicissima e vi volevo anche dire che se volete commentare, volete scriverci qualcosa, scrivete sotto questo video che dopo io vi ripresenterò, se tu mi tagli questa parte qua è molto